è una malattia cronica che grava significativamente sulla qualità della vita delle persone che ne sono afflitte parliamo dell'obesità che causa tra le altre anche di malattie cardiovascolari e di diabete di tipo 2 6 milioni di italiani con obesità correndo un rischio molto maggiore di diabete di tumore ed esiti cardiovascolari perdono fino a 15 anni di aspettativa di vita e dunque una priorità clinica sociale ed economica che deve essere affrontata attraverso strategie integrate e multidisciplinari fino ad oggi la chirurgia metabolica bariatrica ha rappresentato il gold standard per il trattamento dell'obesità oggi si fanno sempre più strada invece delle terapie farmacologiche ma qual è il potenziale del trattamento farmacologico dell'obesità diciamo che questi ultimi anni e potremmo dire dopo i tre anni fa nel l'anno nel quale anche l'italia si è accotata agli stati europei riconoscendo l'obesità particolarmente l'obesità viscerale come malattia numerosi sono i farmaci che sono stati immessi in commercio in particolar modo una categoria di farmaci appartenente al gruppo delle cosiddette ingretine che sta per intestinal secretion of insulin cioè molecole che non sono altro che la riproduzione di un ormone intestinale che viene in qualche modo riprodotto in queste molecole che ne hanno una certa somiglianza cosa fanno questi farmaci sono farmaci che hanno una potente azione dimagrante intanto di per sé sul grasso poi viscerale che è quello che vogliamo combattere sono molecole che agiscono a livello centrale a livello quindi cerebrale riducendo la fame o meglio inducendo sazietà e particolarmente agendo su quella parte della fame che noi chiamiamo fame etonistica fame da piacere il piacere di mangiare quindi molto pericoloso perché crea quelle forme di diciamo compulsive di abbuffate o di per alimentazione queste molecole le prime nati inducevano una perdita di peso intorno al 7 8 per cento sono le molecole che ancora oggi troviamo in commercio i nuovi nati potremmo dire nuovi nati nel senso che già queste molecole esistono in germania in francia in america non sono ancora arrivati in italia sono molecole che come noi diciamo hanno determinano una perdita di peso a due cifre significa alcune di queste molecole in particolar modo una determinano perdita di peso intorno al 20 per cento quindi una perdita di peso notevole una perdita di peso che si accompagna nel caso nostro alla remissione quindi del diabete l'ipergigemia che scompare alla prevenzione del diabete alla prevenzione della delle malattie cardiovascolari alla prevenzione del cancro che è intimamente correlato all'obesità esistono tutt'oggi studi clinici controllati e pubblicati sull'efficacia di un farmaco antiobesità nel prevenire eventi clinici cardiovascolari ovviamente gli studi clinici sono preliminari per qualunque molecola queste queste molecole dalla semaglutide alla semaglutide orale alla tirzepatite che sta per arrivare a tutti i farmaci che sono presenti hanno una mole enorme di studi clinici che mostrano essenzialmente che queste molecole determinano una riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori quelle che noi chiamiamo maci le circa il 15 dal 15 al 20 per cento quindi 15 20 per cento in meno di infarto non fatale ictus non fatale morte cardiovascolari quindi una buona percentuale ma le stesse molecole che hanno in particolar modo anche una azione che è stata documentata per esempio anche in altri distretti come la fegato delimitando stiamo sconfiggendo la steatose patica che la ormai la causa più importante di quella che poi diventa la cirrosi classica metabolica quindi molecole che stanno effettivamente creandoci un interrogativo fondamentale cioè la chirurgia bariatrica la chirurgia demolitiva oggi ha ancora senso di esistere di fronte a queste molecole sono molecole che hanno effetti notevoli quasi da da riprodurre gli effetti di una chirurgia demolitiva la quale troverà però spazio sempre in quelle forme enormi diciamo di grande obesità con compromissione cardiovascolare dove necessario intervenire subito però badate bene anche nelle forme di chirurgia bariatrica queste molecole in associazione alla chirurgia bariatrica impediscono quello che è il vero problema cioè adipositi rebound da qua nasce un concetto fondamentale la adiposopatia cioè la vera obesità quella che determina danno degli organi danno a livello vascolare una malattia cronica come tale va curata sempre questo è il concetto fondamentale curare sempre significa però dare la possibilità agli obesi di curarsi sempre perché se non riprendono peso e quindi ripristinano diabete malattie vascolari questi farmaci ancora non sono inseriti nellea quindi non sono rimborsabili e sono a carico dei pazienti problema più grosso è proprio questo perché ancora lo stato nonostante abbia riconosciuto l'obesità malattia non ha messo i farmaci per l'obesità e neilea per cui di fatto queste molecole nuove estremamente costose noi siamo in grado di utilizzare soltanto per gente che ha la possibilità di poterle comprare questo non è giusto perché se l'obesità nelle regioni come la nostra o la campania arriva a incidere nel 40 per cento le anomalie del peso arriva a incidere nelle classi dei bambini dall 8 a 12 anni con notevole percentuali di peso è inammissibile che noi non possiamo sconfiggere quello che potremmo chiamare la madre di tutti i mali successivi quali sono se ci sono gli effetti collaterali gli effetti collaterali guardi sono essenzialmente effetti legati al farmaco in quanto tale il farmaco induce inappetenza quindi l'effetto collaterale fondamentale è l'inappetenza la nausea il farmaco agisce anche questi farmaci agiscono anche riducendo la motilità intestinale per cui danno stipsi danno alcune volte diarrea quindi alternanza stipsi diarrea possono indurre il vomito però a parte questi effetti collaterali che sono effetti collaterali potremmo dire in qualche modo legati al farmaco in quanto tale che induce inappetenza e come tale fa dimagrire i farmaci non danno assolutamente altro che benefici non effetti collaterali benefici per la salute si registra ancora un notevole aumento di obesità infantile l'indicazione ovvia di interventi sullo stile di vita spesso non sono sufficienti in questi casi è possibile utilizzare i farmaci anti obesità nei bambini e nei ragazzi se alcuni diversi farmaci in particolar modo per le diciamo gli analoghi dell'ormone intestinale possono essere utilizzati a partire dai 12 anni naturalmente li dobbiamo essere molto attenti la farmacologia l'obesità interviene solo dopo le modifiche dello stile di vita che significa un'alimentazione corretta equilibrata ipocalorica naturalmente accanto alla dieta un'attività fisica costante e quotidiana ipocalorica naturalmente accanto alla dieta un'attività fisica costante e quotidiana